La nostra mente, il nostro cervello, ha la capacità di concentrarsi e di apprendere qualsiasi cosa noi proponiamo. Per cui tutto quello su cui noi ci concentriamo cresce. Tutto quello a cui non prestiamo attenzione decresce. Quindi resta facile indirizzare la nostra mente verso le cose che ci piacciono. A questo verrà accompagnata un'emozione e quindi diventerà comportamento. E la nostra vita potrà cambiare soltanto in questo modo, quando ci esprimiamo a prescindere dal giudizio altrui, ma solamente basandoci sul nostro sentimento. Perché molto spesso i limiti sono appunto o autoimposti o anche magari culturali. Per cui una persona dice questa cosa la vorrei fare ma non posso. Perché poi siamo molto bravi a sabotare quella che è la realtà. Ah, questa cosa non la posso fare, questo non lo posso dire, questo non lo posso realizzare. All'invece quando ci ascoltiamo automaticamente siamo in grado di decidere. Il processo del decision making è importantissimo sul lavoro, in casa, in famiglia. Ma decidere in consapevolezza, che vuol dire essere in grado di capire il sentimento che sta sotto a quella decisione e quindi andare in quella direzione, assumendosi chiaramente le responsabilità in maniera positiva. Perché nel momento in cui otteniamo dei buoni risultati è solo la conseguenza di aver pensato e sentito e agito in un certo modo. Cioè consapevoli e quindi capaci di rispettare la nostra natura. Grazie. Grazie.